I ragazzi hanno la possibilità di lavorare in maniera seria, professionale, con allenatori e vederli crescere, vederli cambiare, vederli sempre più innamorare di questo sport è decisamente gratificante per noi e per tutta la nostra famiglia. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!